Tutorial pike stand push up. Per questo esercizio ti consiglio di utilizzare un box se non è a disposizione, un qualsiasi rialzo, tipo una sedia, uno sgabbello, un divano, se lo fai in casa. L'importante è avere un'altezza minima di 50 cm, massima di 70 cm. Corpo a squadra, quindi salire in retromarcia, spingendo con le mani indietro, poggiare le punte dei piedi sul box e i talloni al muro se ne disponi. Effettuare movimento di discesa flettendo i gomiti, arrivare con la fronte poco più avanti della linea orizzontale delle mani e poi distendere completamente le braccia fino al blocco articolare. Mani larghezza poco più delle spalle, gomiti non troppo larghi, diciamo a metà tra fianchi e spalle, tenere l'addome in contrazione e cercare di non flettere il bacino, mantenere tutto il corpo in blocco, tranne i gomiti che si flettono. Per aumentare il rom e la difficoltà puoi utilizzare una coppia di parallele da 30 cm, io le ho usate in questo caso in presa prona, perché è più comodo per questione di articolarità del polso. Con le parallele è possibile superare la linea delle mani e quindi aumentare il grado di difficoltà dell'esercizio.